Che vuoi? Uomini e donne 7 febbraio, Gemma in lacrime disperata Uomini e donne anticipazioni 7 febbraio 2018, ritorna in onda il trono over. Cosa succederà nel corso della prossima puntata, video virgola di cancelletto Uomini e donne che vedremo in onda il 7 febbraio su canale 5? Quali sono le novità e qual è il trono che vedremo in onda in televisione? Andrà in onda la seconda parte del trono classico con protagonisti i nuovi tronisti di questa stagione oppure sarà trasmessa la prima parte del trono over? Ecco tutto quello che cè da sapere nel dettaglio. Spoiler Uomini e donne domani 7 febbraio, ritorna Gemma. Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne in onda domani 7 febbraio su canale 5 rivelano che verrà trasmessa la nuova puntata dedicata al trono over e anche questa volta si parturà dalle ultime novità che riguardano la dama Gemma Galgani. Possiamo svelarvi, infatti, che Gemma entrerà in studio a dir poco affranta e disperata e Maria De Filippi chiederà a Giorgio di potersi sedere di fronte alla dama per avere un n uovo confronto. Il motivo? La De Filippi confessa che ormai sono diversi giorni che Gemma non fa altro che piangere in quanto amareggiata da un'intervista che avrebbe rilasciato recentemente Giorgio Manetti dove lascerebbe intendere di essere ancora innamorato di Gemma ma che non riesce a lasciarsi andare come vorrebbe perché teme il giudizio negativo da parte di Tina Cipollari. Giorgio Manetti. Una confessione bomba che ovviamente non è passata inosservata e che ha indotto Gemma a chiedere spiegazioni al suo ex cavaliere per vedere quale fosse la realtà dei fatti. Giorgio Manetti senza troppi giri di parole rivelerà che lui non ha mai rilasciato determinate affermazioni in quell'intervista e di conseguenza rigetterà al mittente anche le dichiarazioni di Gemma Galgani, la quale sostiene che proprio come lei ha sempre dubitato, Giorgio sia troppo legato al giudizio della gente che non gli permetterebbe di vivere liberamente la sua storia d'amore o per meglio dire il suo ritorno di fiamma con lei. La reazione negativa di Giorgio Manetti, video, farà scoppiare in lacrime Gemma Galgani, le anticipazioni su Uomini e Donne del 7 febbraio rivelano che la dama confesserà che per un momento ha sperato di poter tornare di nuovo con Giorgio e di rimettere insieme i pezzi della loro storia d'amore ma così non è stato possibile. A questo punto, quindi, Gemma non può fare altro che arrendersi e mettersi l'anima in pace, consapevole del fatto che un ritorno di fiamma con il cavaliere toscano appare ormai impossibile. Grazie a tutti.